Siamo qui con Edoardo Soriani, direttore acquisti di Self in occasione della nuova apertura di Albenga. Cosa c'è di nuovo in questo punto vendita? Come avete lavorato sulle gamme e sui reparti? Principalmente sugli assortimenti di questo negozio di conseguenze sull'intera rete e self abbiamo lavorato in termini di assortimenti in ampiezza e profondità dando dei ruoli ben definiti ai vari assortimenti. Da questo punto di vista posso porre l'accento su quello che vuole essere self nel futuro e quindi l'accento massimo posto sul reparto vernici e sul reparto giardino, quindi come punti focali che si possono anche trovare all'inizio dell'entrata del negozio. Quindi assortimenti vasti e profondi con novità di prodotto come ad esempio sul reparto vernici una resita coprente che permetterà di verniciare senza dover spaccare e togliere piastrelle e quindi essere molto più rapidi e molto più economici nel svolgere un lavoro. Nel reparto giardino quindi punto dominante, ampi assortimenti, vasti assortimenti per permettere alle persone di poter usufruire del proprio giardino come meglio credono, sia da un punto di vista tecnico, quindi irrigazione e motore, ma anche dal punto di vista di salotti da giardino, gazebo e questo tipo di presentazione di barbecue. Ecco, all'ingresso del vostro negozio ho visto che avete dedicato una posizione speciale alla ristrutturazione del bagno. Ne vogliamo parlare di questo progetto? Molto volentieri perché questo progetto fa parte di quello che noi definiamo il passaggio dalla vendita del singolo prodotto alla vendita del progetto completo. Quindi la proposta di vendere un bagno facile chiave in mano permette al cliente di essere sicuro di avere una limite di spesa e all'interno della quale poter scegliere all'interno di un capitolato per poter fare le proprie scelte di decorazioni varie sapendo che può aggiungere tutto ciò che vuole. Grazie per la visione!